Sono un altro non nostro, quindi magari le conoscete, insomma. Bene, oh, che figata, devo farvi cantare di nuovo. Siete contenti? Eh? Ah, è vero, è vero. Per chi mi conosce come campione di salto della spia, ne ho tre stasera. Posso scegliere? Ok, allora, bene, bene. Non aiutarli, sennò lo sanno già. Dai, su, questa qua la facciamo cantare sempre, la sanno anche i sassi, pure questa, dai. Facciamo un piccolo test. State un po' zitti, porca mignota, scusate. Allora, dovete cantare con me, dovete finire il corretto. Hey, ho! Eh, madonnina, che schifo, dai. Dai, potete fare di meglio, su, dai, 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 dai. Allora, hey, ho, let's go. Guardalo come arriva, quella non arriva per noi, va bene, guardalo. Oh, viene per noi, spettacolo. Dai, riproviamo, riproviamo. Hey, ho! Va bene, così mi piaceva di più, dai. One, two, three, four! Go, go! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Hey, ho! Let's go! Hey, ho! 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 Hey, ho!